Per noi è un grandissimo onore ricevere qui la visita di Aleida Guevara, che come lei ha detto rappresenta una storia importante, la storia di un paese che si è emancipato da una dittatura terribile e che sta facendo il suo cammino. Io credo che il premio che tu hai avuto è un premio a Cuba, alla storia della tua famiglia, ma è anche un premio per te, perché tu sei un pediatra, un medico molto importante, che si è distinto in questo momento così difficile e che ha dedicato tutta la sua vita a dei bambini che potete immaginare vivono, come tutti i bambini di tutto il mondo, grandi difficoltà. Fare il medico a Cuba con il blocco che c'è anche sui farmaci, anche sui macchinari, non è una cosa semplice. Ho detto ad Aleida che il CE è un simbolo sicuramente molto utilizzato, anche forse male in qualche caso, però nella mia vita ha avuto un ruolo molto importante, mi ha insegnato a non abbassare la testa e a combattere per la giustizia nel limite delle mie possibilità. E le ho anche detto che il gruppo di carabinieri che ha catturato dottore Ina, il capo della mafia, aveva come modello proprio il padre, quindi vuol dire che al di là dell'utilizzazione politica che è stata fatta dell'immagine, in particolare di questa immagine, il CE, suo padre, è stato un uomo che ha descritto a intere generazioni di esseri umani, e lo farà ancora nel futuro, un modo di vivere secondo giustizia e, se mi permettete, perseguendo anche un po' l'uguaglianza, perché questa è una notazione politica, giustizia ed uguaglianza vanno insieme, da sole non stanno in piedi.